19 film italiani che partecipano al 23esimo festival internazionale di Mar del Plata, tra cui uno, Parada, di Marco Pontecorvo, in competizione internazionale. Bella e ricca poi la sezione è curata dal ricercatore argettino Mariano Messman, insieme al professore Antonio Medici, uno dei più importanti esperti italiani del settore, dedicata al mondo del lavoro in 11 film dell'archivio audiovisivo del movimento operaio e litico, fondato nel 1979 da Cesare Zaret. 11 film, dicevamo, firmati da registi come Lizzani, Gillo Pontecorvo, Scola, Gregoretti, Gian Maria Volontè, Anzano Giannarelli e Florestano Vancini all'inizio della loro carriera, ma già con una propria forte identità, che caratterizzano un importante periodo di cambiamenti sociali e politici in Italia, dal dopoguerra agli anni 70, in cui il mondo del lavoro passa rapidamente dalla devastazione della guerra alla ricostruzione degli anni del boom, del miracolo economico, la rivoluzione operaia dell'autunno caldo del 69 e le varie tensioni del decennio seguente.